La nuova giunta comunale guidata da Nicola Barbieri è pronta per mettersi al lavoro. A pochi giorni dalla vittoria schiacciante che lo ha riconfermato primo cittadino nel comune di Mondolfo, assieme alla lista civica a fare città, il sindaco questa mattina ha presentato i nomi degli assessori che faranno parte della giunta già dal primo consiglio comunale, in programma per il prossimo 21 ottobre. Oggi abbiamo ufficializzato la nuova giunta comunale che è una giunta nel segno della continuità, quindi ci saranno quattro assessori che già ricoprivano il ruolo nello scorso mandato e più un nuovo innesto, quindi anche nuove energie all'interno della giunta comunale e poi abbiamo voluto affidare anche ai consiglieri comunali di maggioranza ad ognuno una specifica delega, quindi seguiranno degli specifici progetti perché abbiamo bisogno del contributo di tutta la squadra per portare avanti i tanti progetti che abbiamo inserito all'interno del programma amministrativo per continuare a migliorare la città. Riconfermato nel ruolo di vice sindaco Carlo Diotallevi, mentre Davide Caporaletti mantiene la carica di assessore al turismo. A Raffaele Tinti, neoeletto, va l'assessorato alla viabilità e polizia locale, Alice Andreoni invece è assessore alla sanità, Filomena Territiello resta assessore con delega ai lavori pubblici, eletta presidente del consiglio comunale Serena Pennoni che avrà anche la delega alle pare opportunità. Tra i consiglieri comunali, Even Mattioli avrà la delega alla cultura, mentre Agnese Fuligni quella alle politiche giovanili. Infine il sindaco Barbieri mantiene la delega all'urbanistica e al personale. Continuità proprio perché ci sono dei progetti che non abbiamo avviati ma che non abbiamo ancora completato. Penso alla scuola media fermi, all'adeguamento sismico della scuola media fermi, i cui lavori devono essere completati entro la fine del prossimo anno. Penso all'ampliamento del cimitero comunale, al restauro del bastione Sant'Anna, al percorso ciclopedonale che collegherà Centocroci a San Gervasio, all'illuminazione pubblica di Viale Carducci. Ci sono tanti progetti che abbiamo avviato e che nei prossimi mesi concluderemo e alcuni avvieremo proprio nelle prossime settimane. La squadra è una bella squadra, persone competenti, motivate, che hanno un grande entusiasmo e continueremo nel segno di questi cinque anni. Grazie. Grazie. Grazie.